Questo video è per voi, voi fisioterapisti che ci seguite e per voi aziende che credete in noi, grazie. Oggi voglio darvi alcuni dati che abbiamo raggiunto insieme nell'ultimo mese. Sito web, abbiamo oltre 600 utenti attivi in questo primo mese. YouTube, oltre 1000 visualizzazioni del canale, oltre 6000 minuti guardati. Facebook, i nostri post raggiungono 4000 persone. Abbiamo ricevuto oltre 500 clic sugli singoli post che abbiamo inserito sulla nostra pagina Facebook. Tutto questo con soli 4 recensioni in meno di 30 giorni senza fare pubblicità o altro. Questo video è per ringraziare voi che ci seguite, continuate a seguirci e che credete insieme a noi a questo progetto. Se non sei iscritto al nostro canale YouTube, farlo ora. Se il video ti è piaciuto, condividilo. E se hai venuto, metti anche un bel mi piace sulla nostra pagina Facebook. Grazie di cuore, grazie a tutti. Ci vediamo lunedì per la prossima recensione. Ciao!